Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi parliamo di Thailandia. Come sempre andiamo a rispondere ad alcune domande che negli ultimi giorni mi avete fatto in tanti. Principalmente sono domande che riguardano il Thailand Pass e che riguardano poi anche la certificazione vaccinale. Nel senso che, come sapete, in Thailand in questo momento ci sono precisi requisiti per essere considerati vaccinati e quindi poter accedere al paese senza tipologia di quarantena o senza dover presentare dei tamponi PCR tre giorni prima dell'arrivo in Thailandia. Quest'oggi andiamo a fare un ulteriore chiarimento perché, ripeto, il termometro spesso è il numero di domande che arrivano tramite i commenti che per me sono utili per capire quali possono essere i commenti più interessanti anche per voi che seguite il canale. Come sempre ragazzi, prima di cominciare, questa che vedete a schermo è la mia playlist Thailandia del mio canale YouTube. Ci sono tanti video aggiornati, mi raccomando, come sempre iscriviti al canale e lascia anche un like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube. Come sempre ragazzi, ora sigla e poi cominciamo! Come sapete, se seguite il canale, in questo momento il Thailand Pass per arrivare in Thailandia, come leggiamo poi dal sito di TAT News, è ancora richiesto. Ci sono tanti rumors, tante speculazioni sul fatto che il Thailand Pass potrebbe essere poi sostituito da un certificato vaccinale da mostrare all'arrivo in Thailandia, ma al momento il Thailand Pass rimane, sicuramente per giugno rimarrà valido, vedremo per luglio. La domanda che sto ricevendo da tante persone è, vado in Thailandia ad agosto, devo portarmi avanti e cominciare già a fare il Thailand Pass? Allora, innanzitutto sul Thailand Pass, fatemi dire che avevo fatto un video qualche settimana fa, Thailandia, come fare il Thailand Pass, l'avevo fatto a fine marzo, ed è un video che mostra la procedura completa, step by step, per appunto richiedere il Thailand Pass, come inserire gli allegati, cosa vi serve, quindi se vi è utile, se appunto vi serve fare l'application, potete utilizzare questo video che vi lascio qui in alto. Mi raccomando, guardatelo. La mia risposta per quanto riguarda il Thailand Pass assolutamente è quindi di aspettare, perché è chiaro che se andate in Thailandia ad agosto avete tutto il tempo per fare il Thailand Pass, non c'è fretta, in questo momento il Thailand Pass viene fornito a chi lo richiede con tempi veramente rapidi, addirittura c'è chi mi ha scritto che in mezz'ora ha ricevuto il QR code con l'approval, quindi questo vuol dire che non c'è alcuna fretta nella speranza magari che ad agosto venga eliminato il Thailand Pass, quindi sicuramente per chi viaggia ad agosto, ad esempio, può benissimo aspettare luglio, quindi non c'è motivo di andare a fare il Thailand Pass immediatamente, quindi questo è un punto che mi sembrava giusto fare, perché magari non tutti hanno chiaro il fatto che in questo momento sul Thailand Pass vengono date risposte in tempi molto brevi, questo perché i Thailand Pass che invece sono di persone non vaccinate richiedono entro pochi giorni di essere approvati per consentire appunto al tampone di essere ancora valido. Quindi questo per quanto riguarda il Thailand Pass. Il secondo punto che vedo che mi chiedete in tanti è come capire se in questo momento sono pienamente vaccinato per la Thailandia o se devo fare qualcos'altro. In questo momento, lo vediamo che qui dal sito di TAT News, è considerato vaccinato chi ha fatto uno di questi vaccini e in questo momento vengono richieste due dosi con 14 giorni di distanza dalla seconda dose. Per quanto riguarda la terza dose, anche qui in questo momento è soltanto il rumor, non c'è ancora la decisione del governo thailandese di riconoscere come pienamente vaccinato chi ha le tre dosi, quindi in questo momento le due dosi sono ancora sufficienti, non viene considerato il Green Pass italiano, nel senso che la scadenza del Green Pass italiano non è considerata per la Thailandia, in questo momento chi ha le due dosi fatte anche ormai tanto tempo fa sono comunque persone che sono in title per entrare in Thailandia, quindi in questo momento anche qui dobbiamo aspettare e vedere se decideranno qualcosa di diverso, nel senso che se richiederanno anche la terza dose, eventualmente sarà un discorso poi da fare per le prossime settimane. Credo che comunque, se dovessero comunque richiedere la terza dose, dovranno dare sicuramente un po' di tempo, perché le persone eventualmente dovrebbero farla e aspettare 14 giorni dalla terza dose, e quindi sinceramente, considerando la fama di turisti chi ha la Thailandia, penso che per agosto potrebbero bastare le due dosi, però ovviamente sono decisioni che riguardano poi la Thailandia e vedremo quello che decideranno, questa che vedete a schermo è la lista dei vaccini, ma comprende ovviamente tutti i vaccini che sono stati utilizzati in Italia, quindi per quanto riguarda noi non ci sono nessun tipo di problemi, e quindi direi che anche su questo punto, ripeto, se ovviamente non avete la vaccinazione, invece avrete l'alta possibilità appunto di entrare senza quarantena, presentando il tampone nei tre giorni precedenti. Ovviamente ragazzi, come sempre, fatemi sapere nei commenti qui sotto, se avete qualche domanda anche più specifica, riguardo poi quando fate la domanda del Thailand Pass, ripeto, questo video contiene veramente tutti i passaggi, quindi non potete sbagliarvi nell'ipotesi appunto nel quale volete fare la richiesta in maniera indipendente. Come sempre, scrivetemi nei commenti, ovviamente se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube, e ovviamente se non l'avete fatto iscrivetevi anche al canale. Ovviamente ragazzi, come sempre, ci sentiamo nelle prossime giornate con nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la Thailandia nel frattempo. Vi saluto e alla prossima, ciao!